Benvenuti e bentornati su Fanta Polen e benvenuti nel primo fantamercato di questa stagione del 2024. La squadra più richiesta nel video che ho pubblicato sull'introduzione ai fantamercati è stato il Torino. A pari merito con il Lecce in realtà però ho deciso di portare il Torino. Ovviamente nei commenti lasciatemi scritto qual è la prossima squadra che volete trovare sul canale. Ovviamente il Lecce parte nettamente favorito essendo stata la più votata insieme al Torino. Rapidissimamente perché poi come funzionano i fantamercati ve l'ho spiegato appunto nel video del funzionamento dei fantamercati che trovate in questa playlist. Sono simulazioni del calciomercato della Serie A. In questo video ovviamente vi porto la simulazione del Torino. Però le operazioni che trovate nel Torino poi le ritroverete anche negli altri fantamercati delle altre 19 squadre. Perché se il Torino tratta con qualche altra squadra di Serie A ritroverete la stessa operazione anche negli altri fantamercati. Ovviamente è il mercato che io farei se fossi collaboratore di Vagnati. Insomma se potessi mettere nel mio sul calciomercato del Torino. Ovviamente rispettando i vincoli di bilancio. Cercando di fare operazioni credibili dal punto di vista dei costi, dal punto di vista dei contratti. Sotto tanti punti di vista insomma è un gioco ma cerco di renderlo il più credibile possibile altrimenti non ha ovviamente senso. Allora è arrivato Vanoli anche se non è ufficiale però insomma ormai è quasi fatta per Vanoli al Torino. Quindi io imposto la squadra su un 3-5-2 che può diventare 3-4-1-2. Cioè con il trequartista alle spalle delle due punte. Questo è diciamo l'assetto tattico. Comunque disegnerò la formazione con un 3-5-2 molto elastico sotto questo punto di vista. Ci schiereremo in questo modo quanti soldi chiedo ovviamente alla mia proprietà per fare il mercato. Manca dirlo zero. Io non spenderò assolutamente un euro. Budget per questo mercato zero. E farò anche delle operazioni di mercato che grosso modo dovrebbero lasciare il monte stipendi sullo stesso livello. Quindi andiamo a iniziare questo percorso dove si cambia qualche giocatore. Si fa qualche cessione eccellente perché per finanziare un mercato bisogna fare qualche cessione eccellente. Ma utilizzerò un metodo diciamo di impostazione del mercato e sarà molto distanto probabilmente da quello che farà il Torino nella realtà. Cominciamo subito con i portieri. Allora il Torino come trittico di portieri ha Milinkovic, Savic, Popa e Gemello. Ovviamente poi rientrano dai prestiti calciatori molto giovani che hanno giocato in serie C, in serie D. Io non vado a considerare tutta la rosa perché altrimenti viene un video di 6 ore. Prendo qualche rientro dai prestiti, qualche calciatore rientrante sicuramente ma tra quelli diciamo di maggior spicco. Il trittico dei portieri è questo. Allora prima cosa immediata che già tutti i rifusi del Torino non saranno d'accordo, tanto lo so. Io Vania lo tengo. Lo tengo, so che non piace, so che tutti vorrebbero cambiarlo. Però io penso che Vania Milinkovic, Savic stia soffrendo anche tanto delle considerazioni del suo iniziale percorso al Toro dove effettivamente era un portiere inguardabile. Però è migliorato, a mio avviso è migliorato nel rendimento. Non è un fenomeno, non è uno dei migliori portieri del campionato assolutamente. Però non è così tanto semplice trovare un portiere migliore a costi ridottissimi. Per cui io sinceramente Vania lo tengo anche perché è comunque un portiere fondamentale nella costruzione dal basso e anche Vanoli sfrutta tanto questo fondamentale come Juric. Quindi io Vania me lo tengo. Non vedo il senso di andare a venderlo a poco perché poi comunque è un giocatore che ha del malcontento dietro di sé. A meno che non arrivino gli arabi per poi andare a prendere un portiere che a quelle cifre difficilmente potrà essere più performante. Quindi mi tengo Milinkovic, Savic, mi tengo Popa come secondo. Io rinnovo anche Gemello che quando è stato chiamato in casa non ha affatto un gran che. Soprattutto quest'anno mi ricordo un'uscita a vuoto contro il Bologna. Insomma niente di eccezionale però è il terzo portiere comunque tifoso Granata. Difficilmente può avere ambizione di essere titolare anche soltanto in Serie B. E quindi secondo me Gemello a fare il terzo nella squadra di cui è tifoso ci rimane tranquillamente. Quindi Gemello lo rinnoviamo e quindi il trittico di portieri rimane invariato. Andiamo ai difensori centrali perché come vi ho detto impostiamo la squadra sul 3-5-2. Qui abbiamo Buongiorno, Scurz, abbiamo Lovato, abbiamo Riccardo Rodriguez che in realtà può fare anche esterno di centrocampo ma io l'ho inserito nei difensori centrali. Abbiamo Sazonov, abbiamo Gigi, abbiamo Masina e poi ci rientra dal prestito la Ternana anche Nghessan. Questo diciamo è il pacchetto difensori. Si potrebbero inserire anche due calciatori che hanno fatto i difensori centrali nella stagione soprattutto all'occorrenza che sono Tamez e Voivoda. Che nella parte finale della stagione è praticamente diventato centrale difensivo puro. Però io sinceramente Tamez l'ho inserito nei centrocampisti e Voivoda negli esterni di centrocampo perché sono state forzature. Poi Voivoda ha avuto un buon rendimento in realtà però diciamo all'occorrenza può fare il centrale di difesa ma lo vedo più come esterno di centrocampo. Quindi il pacchetto di difensori centrali è questo. Valutazioni, qui si fa subito il botto. Io Buongiorno lo tengo. Lo tengo almeno un altro anno, cerco di tenerlo. Magari aumento l'ingaggio perché è chiaramente diventato un calciatore di livello importante però me lo tengo anche perché Scurz il rientro all'infortunio non è così veloce come si immaginasse. Quindi non è detto che sarà a disposizione per l'inizio del campionato. Io quest'anno con il Toro voglio creare una squadra che possa credibilmente lottare per le zone europee. Quindi andare in Europa con Buongiorno. Cioè Buongiorno può giocarsi le competizioni europee con la squadra di cui è tifoso e in cui è cresciuto. Da capitano, cioè voglio dare questa possibilità a Buongiorno e voglio dare questa possibilità al Toro. Quindi io Buongiorno lo tengo e non lo vendo assolutamente. Me lo tengo così come mi tengo Scurz che ovviamente dopo un infortunio così grave difficilmente lo si può vendere a cifre che poi rispecchino il suo reale valore che è molto alto. Quindi me lo tengo e lo attendo. Anche se non credo l'attesa sarà lunghissima. Capitolo Lovato torna assolutamente alla Salernitana. A mio avviso uno dei difensori centrali più scarsi assolutamente della Serie A. Magari la Serie B gli farà bene. Non so se con la Salernitana o altrove. Comunque vedremo. Riccardo Rodriguez scade il contratto. Era molto legato a Juric. Non sembrano esserci margini per il rinnovo. Sinceramente è un giocatore che io apprezzo, stimo, però ha un ingaggio alto. Lo salutiamo. Lo salutiamo e facciamo altre scelte. Per quanto riguarda Sazzono va giocato poco. Quando ha giocato non ha convinto particolarmente. Molto rozzo e molto istintivo. Lo diamo in prestito. Magari in Serie B. Cioè lo lasciamo nel territorio nazionale per farlo crescere nel nostro calcio. Quindi lo vado a dare in prestito in Serie B. Gigi, altro giocatore in scadenza di contratto. Calciatore che anche lui, un po' come Milinkovic, è partito malissimo nella sua esperienza al Toro. Poi è andato migliorando. Però si può fare scelte migliori. Si può ringiovanire. Si può fare qualcosa di diverso. Quindi Gigi lo vado a salutare da svincolato. Per quanto riguarda Masina. Nella realtà è stato riscattato dall'Udinese per un milione di euro. Anch'io sinceramente lo riscatto. Perché è un giocatore duttile. Perché può fare il centrale di difesa a tre. Può fare l'esterno di centrocampo. Può fare il terzino qualora all'occorrenza volessimo provare una difesa a quattro. È un giocatore comunque da rendimento affidabile. Che ha smaltito l'infortunio grave. Che gli ha fatto saltare il mondiale in Qatar. Dove il suo Marocco è arrivato clamorosamente in semifinale. Masina ce lo teniamo. È una buonissima riserva. Quindi un milione paghiamo per il riscatto di Masina. Per quanto riguarda Anghessan che rientra dalla Ternana. Non ha mai giocato alla Ternana. Quindi la serie B evidentemente è troppo per lui. Lo diamo in prestito. Quindi in serie C. Bene. Quindi vada a sé che ci rimangano. Buongiorno Scurz e Masina. Ne abbiamo tre. Ne dobbiamo avere sei. O almeno nell'ottica di una formazione. Di una rosa diciamo competitiva. Anche con le turnazioni necessarie. Considerando anche che abbiamo Scurz e infortunato. Buongiorno e Masina. E comunque non è che sono giocatori inscalfibili. Abbiamo bisogno di una panchina. E quindi ne vanno presi altri tre. Allora uno dei tre in realtà me lo prendo in casa. E promuovo dalla Primavera della Valle. Che è un difensore molto promettente. Che ha fatto qualche presenza anche con Juric. Lo promuovo. Lo promuovo a Vice Scurz. A Vice Buongiorno. Fate voi insomma. Giocatore che ovviamente non gli verrà caricato di piene responsabilità. Però è un giocatore che secondo me nella rosa ci può stare benissimo. Può fare le sue 10, 12 presenze, 15 anche in una stagione. E possiamo testarlo. Anche per capire poi al termine della stagione. E se sarà il caso. E in base anche a quale sarà il raggiungimento della classifica. Appunto ottenuta a fine campionato. Se sarà il caso di vendere uno dei due top player. Tra Buongiorno e Scurz. E puntare su Della Valle costruito in casa. Come è stato Buongiorno. Quindi Della Valle lo promuovo. Ce ne mancano quindi due. E vado a prendermi un top assoluto del reparto. E poi un giocatore invece per le turnazioni. Come riserva. Partiamo dalla riserva. Il top me lo lascio in fondo. Un po' tipo il dolce. Capito? Allora. La riserva la vado a prendere. Dalla Salernitana. Non è lovato assolutamente. Che però quest'anno è andato via in prestito. Sto parlando di Daniliuk. Daniliuk ha una clausola rescissoria con la Salernitana a 5 milioni di euro. Secondo me è un difensore invece molto interessante. Che tra l'altro anche la Salernitana quando aveva giocato all'inizio. Aveva fatto vedere buone cose. Poi inspiegabilmente è scomparso. Ma la Salernitana ha fatto un casino con la Rosa, i mercati, i cambi d'allenatore. Che poi anche i calciatori magari di valore si sono persi. Daniliuk secondo me è un buon difensore. Ottimo per la difesa a 3. È un giocatore bravo nelle letture. Con un buonissimo piede per l'impostazione. Quindi può essere comunque un'alternativa interessante per la nostra difesa. Io la vado a prendere in prestito. Perché tanto la Salernitana difficilmente lo può vendere. Nessuno gli pagherà mai la clausola. Perché il giocatore si è svalutato tanto. È uscito anche dal giro della nazionale. Quindi lo andiamo a prendere in prestito. Magari oneroso. Paghiamo tipo 500.000 euro di prestito. Con un diritto di scatto intorno ai 4 milioni. E quindi lo valutiamo poi al termine della stagione. È un po' come il Lovato. Però su Daniliuk penso ci siano più margini di riuscita dell'operazione. Quindi Daniliuk in prestito oneroso a 500.000 euro. Con diritto di scatto a 4 milioni. Veniamo al top perché comunque Danoli anche al Venezia in Serie B si è affidato molto al suo reparto difensivo. A Sverco, a Svoboda, a Izzes, a Altare. Cioè in Serie B la difesa a 3 è stata determinante. Per permettere magari anche ai centrocampisti di poter avanzare, di poter fare inserimenti. Cioè è un allenatore che comunque si affida molto al trittico di difesa. Quindi abbiamo buongiorno e scorse, sono due top assoluti della Serie A. Andiamo a prendere un terzo, facciamo una difesa veramente tra le più forti del campionato. E da lì partiamo. Vado dal Galatasaray e mi vado a prendere Viktor Nelsson. Difensore danese che tra l'altro penso stia giocando anche gli europei. Non so se è titolare, comunque sta giocando. Giocatore che è cresciuto negli ultimi anni, appunto in Turchia. Ma non così tanto da diventare un giocatore, diciamo, osservato dai top team europei. Questo cosa significa? Questo significa che ce lo possiamo prendere a una cifra competitiva, alta, ma competitiva, che ci possiamo permettere. E quindi io vado a pagare dal Galatasaray, Nelson, 16 milioni di euro. Titolo definitivo. Galatasaray che fa la Champions, tutto quello che volete. Però la Serie A non è il campionato turco. Il campionato turco è il cimitero dei giganti. Vanno i giocatori a fine carriera, vanno i giocatori che sembravano grandi e promesse da giovani e poi sono stati dei flop nell'età top, diciamo, di un calciatore. Un calciatore in ascesa deve andare via di lì. Un po' come è stato Kim che dal Fenerbahce è andato al Napoli. Noi proviamo a fare la stessa cosa con Nelson che viene al Torino. Quindi Nelson per 16 milioni di euro, sono tanti, me ne rendo conto. Ma è un giocatore, secondo me, fortissimo che quando Scurso tornerà al 100%, il trittico Scurso Buongiorno Nelson è probabilmente il trittico di difesa più forte della Serie A. E quindi da lì partiamo. Perché comunque la difesa è fondamentale. E quindi la difesa è a posto. Scurso Buongiorno e Nelson come titolari abbiamo in panchina della Valle Daniliuk e Masina. Andiamo ora agli esterni, gli esterni di centrocampo. Qui abbiamo Bellanova, Lazzaro, Voivoda. E poi ci rientrano dei prestiti dall'Ascoli, Baieie, dal Venezia, Dembélé e dal Catania, Haveri. Questa, diciamo, è la batteria di esterni. Allora, prima sessione eccellente. È Bellanova. Perché secondo me è il momento di venderlo. Perché è un giocatore che è arrivato in nazionale. Che quindi gode di tanto hype anche a livello di costo del cartellino. È un calciatore che ha fatto un giorno di ritorno dove ha avuto dei lampi, dei momenti che gli hanno permesso veramente di andare anche sulle prime pagine dei giornali. Però secondo me per continuità non è quel giocatore che vale la cifra a cui possiamo venderlo in questa sessione di mercato. Quindi vado a intavolare una trattativa dove vado a prendermi proprio il sostituto nella trattativa. Ed è un sostituto secondo me più funzionale a quello che dobbiamo fare noi. Più costante di rendimento, più completo. Meno esplosivo magari. Però è un calciatore che secondo me in rapporto qualità-prezzo è assolutamente migliore di Bellanova. Ma ci arriveremo. Comunque Bellanova lo andremo a vendere. Mi tengo invece Lazzaro e Voivoda. Perché sono due giocatori affidabili. Lazzaro può giocare in entrambe le fasce. Quindi è un buon jolly anche sotto questo punto di vista. È una buonissima riserva. Perché lo tengo assolutamente come riserva. Così come mi tengo come riserva Voivoda che può fare tutto. Può fare anche il centrale di difesa. Quindi è un giocatore comunque determinante nell'economia di una rosa. Per quanto riguarda gli altri invece li salutiamo. Baieie che rientra dall'Ascoli ed è in scadenza di contratto. Cerco di farci un 200.000 euro e cederlo in Serie B o all'estero. Comunque 200.000 euro conto di incassare da Baieie. Dembele che rientra dal prestito al Venezia. Qualche partita in realtà l'ha anche fatta. Però lo andiamo a riprestare in Serie B. Sperando che magari trovi continuità e possiamo venderlo. Magari in prestito a un diritto di scatto obbligo a determinate condizioni. E per quanto riguarda Veri poca poca roba. Veri è stato un acquisto flop. Lo ridiamo in prestito in Serie C. E così continueremo fino a che non gli scade il contratto. Bene. Quindi abbiamo Voivoda e Lazzaro come riserve. Andiamo a Bellanova. Allora che operazione faccio? Lo vado a cedere e faccio un'operazione con l'Atalanta. Valuto Bellanova 20 milioni di euro. E prendo dall'Atalanta Zortea. Che rientra dal prestito al Frosinone. Che Gasperini ha già avuto per due anni. Che per due anni ha bocciato. Mandandolo in prestito prima la Salernitana. Poi al Frosinone. Non piace a Gasperini e a Zortea. È inutile girarci intorno. Però il Frosinone nel giorno di ritorno ha fatto vedere cose veramente eccezionali. A livello di gol e di assist ha gli stessi pari pari numeri di Bellanova. Ma in un girone ha fatto gli stessi numeri che Bellanova ha fatto in tutto il campionato. In una squadra che è retrocessa. Quindi numeri importanti. Grande capacità al cross. Inserimento. Anche un buonissimo tiro da fuori aria. Bravo con entrambi i piedi. Giocatore che è anche molto più utile in fase difensiva rispetto a Bellanova. Non ha gli strappi devastanti che ha Bellanova. Bellanova va ad accelerando parte. È infermabile. Questo genere di strappi Zortea non ce li ha. Però in rapporto qualità prezzo secondo me possiamo fare un affare clamoroso. Quindi io vado a valutare Bellanova 20 e Zortea 5. Quindi l'Atalanta ci dà 15 milioni di euro più il cartellino di Zortea. Poi se magari Zortea ha valutato 10. Bellanova 25 uguale. Comunque 15 più il cartellino di Zortea. Poi sulle valutazioni insomma c'è margine. Quindi questa è l'operazione che vado a fare. Zortea sarà il mio titolare sulla destra. Per quanto riguarda il giocatore sulla sinistra. Qui vado a fare un esborso importante di ingaggio. Non di cartellino. Perché vado a fare un prestito. Vado a fare un prestito di un calciatore che fino a 2 o 3 anni fa era uno dei terzini più forti al mondo. Comunque uno di quelli un po' sulla bocca di tutti i grandi club europei. Si è perso completamente. E quindi andiamo a prendere. Attenzione. Reguillon. Reguillon a cui è rimasto un solo anno di contratto con il Tottenham. Ma il Tottenham è una zavorra. Non lo vogliono più. Anche perché anche se Udoge è infortunato. Ma c'è Udoge lì. Quindi Reguillon ormai è fuori dal giro del Tottenham. Tant'è che l'ultima stagione l'ha passata in prestito al Brentford. Dove comunque anche lì non è riuscito a emergere. Io penso che Reguillon se torna in un campionato diciamo sul suo stile Spagna-Italia. Può tornare il grandissimo giocatore che era stato. Quindi cosa vado a fare? Lo vado a prendere in prestito dal Tottenham. Perché tanto il Tottenham non può pensare di venderlo in questo momento. Considerate anche le cifre dell'ingaggio. E quindi Reguillon lo prendo con un accordo verbale. Cioè lo prendo. Gli do l'ingaggio che gli devo dare. Perché non pago nulla di cartellino. Con un pre-accordo a termine stagione. Dove sarà svincolato che se raggiunge 30 presenze. O se il Torino raggiunge la competizione europea. Ha un contratto pre-impostato di rinnovo. Magari di tre anni con l'ingaggio un po' abbassato. Perché se no il Torino non se lo può permettere. Però questa è un'operazione pesante. Me ne rendo conto. Però come ho detto io il Torino lo voglio portare in Europa. Ma nemmeno in conference. Voglio creare un Torino che possa ambire anche all'Europa League. Che possa credibilmente essere un Bologna 2.0 per intenderci. Quindi dobbiamo anche provarci. Ecco. Poi comunque abbiamo perso lo stipendio di Rodriguez. E quindi possiamo anche. A parte abbiamo preso Nelson. Però vabbè. Possiamo fare questo investimento. Alla fine non chiedo nulla di budget sui cartellini. Qualcosina in più sugli ingaggi. Si può provare a fare. Perché comunque il Torino ha un monte ingaggi. Da parte destra della classifica. Possiamo alzare un pochino la soglia. E cercare di fare il grande salto di qualità. Che in questi anni è mancato. Quindi Reguillon in prestito per un anno dal Tottenham. Poi a fine anno si svincola e parleremo. Col suo entourage. Però intanto ce lo teniamo. E quindi gli esterni titolari sono Zortè, Reguillon. Sono Voivoda e Lazzaro le riserve. Considerando che anche Masina può giocare in quel ruolo lì. Andiamo al centrocampo. Io l'ho impostato a tre. Però come vi ho detto prima. C'è la possibilità di passare a un 3-4-1-2. Col trequartista. Comunque metto tutto nello stesso carderone. Allora, a centrocampo abbiamo Ricci, Tamez, Ilic. Abbiamo Linetti. Abbiamo Kinetis. Abbiamo Vlasic. Poi ci rientra dal prestito al Basak Sheir Ilkan. Ci rientra dal prestito al Keksemet Horvat. E ci rientra dal prestito al Como Kone. Allora, per quanto riguarda Kone scatta l'obbligo di riscatto per il Como. Quindi incassiamo un milione e mezzo dal Como per Kone e questo dente. Ce lo siamo levato. Abbiamo anche incassato dei soldi. Poi, cessione che vado a fare è Ilkan. Ilkan purtroppo non ha convinto. Giocatore molto promettente. In realtà era anche un investimento di prospettiva. Però Altorro ha fatto male. Non tanto per l'errore che fece a Milano. Perché neanche si può condannare un giocatore per un errore. Però poi anche quando è andato alla Samp, alla Cremonese, non è riuscito a trovare continuità quando ha giocato affatto male. Probabilmente non è adatto alla Serie A. Poi magari fra due o tre anni potrebbe esserlo. Però non ci vedo neanche quel grande potenziale da poterlo essere. E quindi lo andiamo a vendere in Turchia. Dove comunque ha una considerazione. Lo vendo per un milione. Tanto in questi due anni il costo che abbiamo pagato per comprarlo si è ammortizzato. Possiamo permetterci di venderlo a un milione senza fare minus valenza. Quindi un milione conto di incassare per la cessione a titolo definitivo in Turchia. di Ilkan. Per quanto riguarda Orvat, che rientra dal prestito al Kexemet, ha fatto una grandissima stagione. Certo in un campionato minore. Però ha fatto vedere buonissime cose. Quindi non vedo perché andarlo a vendere per un milione e ottocento mila euro quando un giocatore che nella rosa potrà essere utile come alternativa sulla tre quarti. Può essere un giocatore che ti può essere utile appunto sulla tre quarti, considerando che appunto abbiamo la possibilità di passare al 3-4-1-2. Quindi Orvat io me lo tengo. Ricci me lo tengo. Anche se non sono un suo grandissimo estimatore, però sta crescendo in personalità, sta crescendo in completezza. E quindi me lo tengo perché secondo me venderlo adesso sarebbe un errore perché può crescere ulteriormente. Tames me lo tengo perché un Jolly è un giocatore importante, è un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere, quindi me lo tengo. Mentre invece vado a vendere Illich. Vado a vendere Illich perché è un giocatore che invece al contrario di Ricci non è mai cresciuto in questo periodo. Tra l'altro lo aveva voluto espressamente Juric e con Juric non è cresciuto, quindi è inutile tenerlo secondo me a mercato perché comunque è un giocatore che gioca in nazionale, è un giocatore giovane che gode di tanta stima e quindi lo andiamo a vendere in Bundesliga. Io lo vedo bene in Bundesliga in un Wolfsburg, come è bene al Bologna a comprare Svanberg e potrebbe comprare un Illich anche se adesso ha preso lì, no, lì non ha preso Werder Brema, quindi potrebbe andare al Wolfsburg, sì, ci potrebbe essere. Ok, vi lancio questa cosa, Illich al Wolfsburg. Io conto l'incassare per la cessione di Illich 15 milioni di euro, segno un più 15 nel budget perché comunque secondo me è una cifra che possiamo prendere, alla fine grosso modo è quanto il Torino l'ha pagato dall'Ellas Verona e non è che il giocatore si sia valutato, insomma. Secondo me non si è svalutato perché gode di tanta considerazione, ma questi due anni dovrebbero averlo fatto svalutare visto che il giocatore non è cresciuto. Poi, Linetti lo teniamo perché a me piace, mi è sempre piaciuto come giocatore fin dai tempi della Samp, un giocatore che dà grande equilibrio, dinamismo, senso della posizione, letture, un giocatore intelligente, a me piace Linetti, quindi me lo tengo. Può essere il Lella, per intendersi, del Torino e Ivanoli, quello che è stato Lella al Venezia può essere Lolinetti. Gineitis è molto promettente, ha un piede fantastico, un giocatore forte sui piazzati, un giocatore che anche lui sta crescendo, io me lo tengo assolutamente, non come titolare magari, però tanto nell'era dei cinque cambi giocherà tanto anche lui, e Gineitis io me lo tengo assolutamente. Così come mi tengo Vlasic, che è un giocatore che va assolutamente ritrovato, perché il giocatore è forte, eh ragazzi, cioè Vlasic si sta parlando di un giocatore che se entra nel suo mood, è un giocatore determinante, anche per i livelli di una squadra che punta all'Europa. Purtroppo nel Torino non è mai riuscito a trovare la continuità nei numeri, perché poi le prestazioni di Vlasic, secondo me, so che alcuni tifosi del Toro non sono d'accordo, lo reputano un po' evanescente, ma io penso che il giocatore invece sia un giocatore maturo, che tra l'altro nell'ultima stagione, giocando da mezzala, ha anche implementato il suo bagaglio dal punto di vista tattico, quindi a me piace Vlasic, mi dispiacerebbe venderlo, tra l'altro ora è anche infortunato, ma è un giocatore fragile, questo è indubbio, però è un giocatore che adesso se vai a vendere lo vendi male, e invece secondo me, in un Torino che si sente sicuro perché dietro ha dei mostri, ha dei difensori fortissimi nell'uno contro uno, e quindi può lasciare un pochino più di libertà e de-responsabilizzare dai compiti difensivi un giocatore come Vlasic, può crescere veramente tanto di rendimento e quindi poi anche di valore, però è un giocatore che comunque sul Toro ci ha investito, io me lo tengo come titolare assolutamente Vlasic. Quindi, abbiamo Ricci, Tames, Linetti, Gineitis, Vlasic, e mi sono tenuto Orvat come riserva di Vlasic. Io vado a inserire altri due calciatori in questo reparto, anche se poi a livello numerico in realtà potremmo essere completi perché sono sei, però vado a inserire altri calciatori. Il primo lo prendo dalla primavera anche in questo caso, perché la primavera del Toro ha tanti calciatori interessanti, non è che ne posso portare quattro o cinque, anche perché io reputo che i calciatori giovani debbano giocare. Se tu puoi concedergli dieci, dodici, quindici partite in serie A è un conto, ma se gliene devi far fare due o tre, tanto vale mandarlo in serie B a farne 30, cresce molto di più in quel modo. Io penso che della Valle le sue 12, 13, 15 partite considerate anche Scurso e Infortunato a inizio campionato le potrà fare e io penso che potrà essere utile anche Russell. Russell che è un centrocampista, forse è uno dei giocatori che si è messo più in mostra nella primavera del Toro, è un giocatore che secondo me può anche portare avanti quel filone americano del centrocampo che Vanoli ha avuto al Venezia. È un giocatore dinamico, è un giocatore di grande corsa, che ha anche una buonissima tecnica e quindi per me Russell può essere un interessante innesto a centrocampo un po' come Gineitis. Anche perché comunque bisogna considerare che Vlasic, Ricci, Tamez sono tutti calciatori fragili che a volte hanno problemi fisici, quindi comunque avere tanti calciatori in quel reparto lì ci fa comodo e se abbiamo qualche giovane va benissimo, cioè che non è che puoi avere otto calciatori di 28 anni con 800.000 di ingaggio perché sennò scoppia il Toro, quindi dobbiamo inserire anche dei giovani e Russell è il mio indiziato. E poi vado a fare un acquisto pesante a centrocampo vado a prendere un uomo di fiducia di Vanoli, vado a prendermi Tanner Tesman dal Venezia che è stato diciamo il giocatore cardine del Venezia della stagione in Serie B insieme volendo a poi Ampalo che è stato il capo cannoniero ovviamente però Tesman è stato quello che insomma ha anche colto un pochino più l'interesse anche di club più importanti del Toro nel senso che sembra che lo voglia l'Inter insomma l'Atalanta i Bologna cioè squadre di alta classifica sono interessate a lui Tesman è in scadenza di contratto quindi il Venezia neanche possa chiedere cifre astronomiche anche se il giocatore è forte però alla fine ha fatto un campionato di Serie B importante e è in scadenza di contratto io però butto giù tanti soldi perché perché già ho fatto lo smacco di rubare l'allenatore al Venezia quindi già gli staremo sui coglioni quindi gli diamo tanti soldi in modo tale che il Venezia sia costretto ad accettare la nostra offerta e cerchiamo di anticipare la concorrenza quindi buttiamo tanti soldi sul piatto su un giocatore in scadenza mentre sicuramente le big diranno ah sì pigio un pochino sul procuratore lo faccio temporeggiare lo piglio a zero fra sei mesi invece no arriva il Torino e se lo sciula 8 milioni e mezzo al Venezia sono tanti ma ragazzi Tesman ha 22 anni 23 forse al massimo ed è un pupillo assoluto del nostro allenatore che abbiamo fatto carte false per averlo l'allenatore intendo quindi diamogli questo giocatore anche perché ci dà fisicità a centrocampo di cui abbiamo bisogno perché abbiamo bisogno di fisicità abbiamo tutte veline in mezzo al campo ci serve un bel mastino comunque molto tecnico Tesman è una sorta di Milinkovic-Savic d'America come tipo di gioco a me piace tantissimo e quindi ce lo andiamo a prendere a 8 milioni e mezzo va da sé che quindi il centrocampo titolare nella mia ottica è formato da Tesman Ricci e Vlasic con Vlasic che uscilla tra la linea della mediana e quella della tre quarti in panchina abbiamo abbondanza perché abbiamo Linetti abbiamo Tamez e poi abbiamo i giovani abbiamo Orvat Russell e i Ginetis questo è il reparto di centrocampo che ho pensato per il Toro veniamo all'attacco qui c'è da fare delle valutazioni importanti perché secondo me l'attacco va cambiato lo dico proprio senza peli sulla lingua allora qui abbiamo Cabic abbiamo Duvan Zapata abbiamo Sanabria abbiamo Pellegere abbiamo Okereke e poi ci rientrano dai prestiti Radongic dal Mallorca Caramod dal Montpellier e Rauti dal Sud Tirol allora Cabic era in prestito alla Stella Rossa lo rispediamo al Mittente cioè così una presenza probabilmente nelle cene di squadra insomma nei video su TikTok però non credo che abbia avuto un valore dal punto di vista tecnico quindi Cabic lo rispediamo al Mittente capitolo Duvan Zapata grande stagione ottima stagione ma ha 34 anni è un giocatore che spesso si fa male è un giocatore che non ti dà garanzie né dal punto di vista tecnico perché gli anni passano vi ricordo che ad esempio Di Natale è passato da fare 26 gol a schiantare in un anno stessa cosa sta succedendo a immobile cioè quando un calciatore soprattutto fa tanto affidamento sul fisico non era il caso di Natale ma Zapata sì può crollare di rendimento da un momento all'altro è un giocatore che tra l'altro quest'anno è stato poco infortunato per i suoi standard proprio di carriera però non ti dà neanche garanzie sotto quel punto di vista io ho letto che il Cruz Azul vorrebbe pagarlo 13 milioni e noi lo mandiamo via noi lo mandiamo via perché non puoi rifiutare 13 milioni per un giocatore di 34 anni il Toro non si può permettere di fare una cosa del genere quindi lo vendiamo assolutamente lo riscattiamo perché abbiamo il riscatto dall'Atalanta 5,6 milioni e lo vendiamo al Cruz Azul a 13 quindi complessivamente incassiamo 7,4 milioni da questa entrata e uscita di Dovan Zapata Sanabria lo tengo perché quest'anno ha fatto male in dubbio probabilmente coperto anche da Zapata però l'anno prima aveva fatto molto bene comunque giocatore intelligente giocatore utile me lo tengo come riserva però me lo tengo perché l'attacco come ho detto lo rifaccio tutto e abbiamo Pellegri che cerco di vendere cerco di vendere ha fatto un buon finale di stagione quindi un po' magari si è valorizzato cerco di venderlo in Serie B a squadre di media da zona playoff di Serie B a un Brescia per dire a squadre di questo tipo un milione contro di incassare da Pellegri perché comunque è giovane e se dovesse non farsi male e fare un ottimo campionato di Serie B la squadra che l'ha preso comunque ci fa jackpot quindi un milione contro di incassare da Pellegri Okere che scade il prestito da Cremonese a riederci e grazie Radonich che rientra il prestito al Mallorca non è il caso di insistere anche se i problemi caratteriali li ha avuti con Juric però non è il caso di insistere secondo me un giocatore problematico con una tecnica sopra la norma ma non c'ha la testa secondo me per fare il calciatore a determinati livelli quindi Radonich io lo vado a cedere all'estero in campionati magari dove ci sono meno pressioni e quindi può essere può fare anche un pochino più la vita da imbecille senza che i giornalisti e cose gli rompano le scatole quindi campionato tipo campionato belga campionato di questo tipo lo vado a vendere per un milione di euro anche lui per quanto riguarda Caramot altro calciatore scomparso che sembrava sicuramente molto meglio quando arrivò in Italia non ha fatto bene il Montpellier lo andiamo a cedere o in Serie B se chi è ancora in Italia crede in lui oppure all'estero che può essere appunto una bassa bassissima Ligan o campionati secondari come appunto campionato belga campionato olandese campionati di questo tipo 600.000 euro contro l'incassare da lui Rauti campionato al Sud Tirol senza infamia e senza lode più con infamia che con lode lo vendo in Serie B lo vendo in Serie B a squadra inferiore al Sud Tirol per 300.000 euro quindi ci rimane solo Sanabria è rimasto lì a cantare ma pim ma pom completamente da solo e come vi dicevo l'attacco è tutto da rifare e anche qua io vado giù pesante con i nomi con i costi perché come ho detto bisogna bisogna attentare il grande salto perché dopo tutti questi anni di mediocrità di piattume di un Torino che è proprio rimasto bloccato in quella posizione sembra inchiodato sul decimo posto vogliamo fare il grande salto e quindi anche in attacco servono degli investimenti chiaramente non possiamo prendere giocatori fatti non possiamo prendere giocatori che garantiscono 20 gol perché non è possibile però possiamo prendere calciatori che possono avere il potenziale di farle e quindi cerco di fare un mix tra un calciatore che è di esperienza e che possa garantire un buon rendimento e due scommesse questo è un po' quello che vado a fare allora cominciamo con il calciatore di rendimento sicuro ed è un parametro zero lo vado a prendere dagli svincolati ha giocato l'ultima stagione al Fenerbahce come vice Dzeko e sto parlando di Batshuayi attaccante completo che sa fare un po' tutto molto forte fisicamente sa giocare di sponda è tecnico ha potenza fisica non uno strapotere alla Lukaku per dire però è un giocatore che insomma ha una buona progressione ha un bel tiro da fuori area è un giocatore che magari è un po' discontinuo all'interno della partita nel senso che si assenta magari per 10 minuti non lo vedi più non è molto avvezzo al sacrificio però è un giocatore che comunque quel mestiere lo sa fare benissimo e quindi lo prendiamo a parametro zero gli facciamo magari un biennale per ridurre un pochino i costi e l'ingaggio perché è un altro calciatore che in carriera ha guadagnato tanto perché è partito da squadre di alto livello poi pian piano è andato a scendere fino ad arrivare appunto alla Turchia che è il cimitero dei giganti come vi dicevo prima gli diamo questa opportunità di tornare in un campionato di primo livello spalmando l'ingaggio su due anni magari quindi Batshuayi che comunque ha 30 anni non è vecchio ha parametro zero dal Fenerbahce insomma si è svincolato dal Fenerbahce dopodiché ci andiamo a prendere un prestito perché sfruttiamo una situazione un po' particolare allora ci andiamo a prendere Gift Orban calciatore che col Genker è arrivato a livelli stratosferici era uno dei calciatori diciamo un po' sulla bocca di tutti perché poi mi ricordo che in conference mi sembra contro l'Istanbul Basak Shehir segnò 4 gol in 20 minuti in una partita eliminazione diretta mi ricordo se era un sedicesimo un ottavo di finale comunque era un giocatore che stava esplodendo anche dal punto di vista numerico proprio dei gol ma poi delle giocate era un giocatore che aveva dei colpi veramente sensazionali era giovanissimo e alla fine tutti lo volevano tutti ne parlavano se l'è ciulato il Leone se l'è preso il Leone è una cifra anche nemmeno alta perché l'ha pagato 14 milioni di euro però l'anno scorso a Leone non si è assolutamente ambientato Leone che ha cambiato anche allenatore in corso d'opera perché stava facendo una stagione da zona di retrocessione è arrivato un allenatore riportato in Europa con un trend clamoroso però Orban né prima né dopo è riuscito a trovare continuità quindi un giocatore che non ha reso a Leone e che probabilmente il Leone non vuole tenere o almeno io interpreto questo e noi proviamo a prenderlo in prestito paghiamo un milione l'onerosità del prestito mettiamo un diritto di riscatto intorno ai 12 una roba del genere e ovviamente un diritto di riscatto che magari diventa obbligo al verificarsi determinate condizioni delle prestazioni di giocatore risultati della squadra insomma i classici cavilli contrattuali di questo genere di operazioni però lo paghiamo un milione per questa stagione e poi il prossimo anno vediamo vediamo se lo riscattiamo vediamo come è andato il Toro vediamo come è andato Orban però è un giocatore che secondo me ha dei numeri veramente importanti anche lui non è continuo al 100% nella partita però è un giocatore che veramente ne può risolvere tante con delle giocate di furbizia di astuzia di fiuto del gol con delle giocate anche acrobatiche cioè un giocatore che ha veramente tante soluzioni e quindi Orban secondo me è anche un investimento perché comunque è un investimento a rischio zero perché è un prestito quindi lo valuti e poi eventualmente il prossimo anno te lo tieni dopo aver visto di che pasta è fatto quindi Orban per un milione di prestito con un diritto di scatto intorno ai 12 milioni dal Lione lo accompagniamo con un altro calciatore che prendiamo dalla Ligan con un altro attaccante che invece quest'anno ha fatto molto bene e quindi lo paghiamo stavolta paghiamo soldi ci sono rimasti 15 milioni del budget li paghiamo tutti li spendiamo tutti per questo attaccante andiamo dal Tolosa e prendiamo dal Linga ex rdivisie giocatore che poi in realtà in Olanda non è mai esploso definitivamente ma che invece al Tolosa ha trovato la stagione la stagione di grazia ora bisogna capire se è una stagione di grazia cioè nel senso se è un calciatore che ha fatto la stagione della vita e mai si ripeterà a quei livelli oppure se è un calciatore che ha trovato la maturità ed è ora il momento di prenderlo perché se si riconferma a quei livelli non lo prendi più io propendo più per questa seconda opzione cioè è un calciatore che ha un'eleganza ha una tecnica ha una qualità nel controllo palla nella gestione del pallone che pochissimi calciatori hanno in quel ruolo lì come centro avanti non è molto forte fisicamente però è un giocatore che difende palla con la tecnica è un giocatore che si muove bene di un'intelligenza veramente sopra la media che sa segnare da tutte le posizioni in tutti i modi trova soluzioni anche impensabili e anche nell'assist nel portarvi all'uomo cioè quei giocatori intelligenti che ti fanno fare gol anche senza toccare palla no? Dalinga è quel tipo di calciatore è una sorta di Sanabria però giovane che ha un potenziale che Sanabria ormai non ha più ecco questo questo è un po' un po' il tipo di calciatore magari meno fisico e più tecnico ecco rispetto rispetto a Sanabria però Dalinga è quel tipo di calciatore e quindi abbiamo un reparto d'attacco con Dalinga pagato 15 milioni però è un investimento così come Nelson così come Tesman sono investimenti ma sono investimenti per i calciatori giovani che se ingroppiamo la stagione buona li vendi tutti al doppio cioè senza problemi ma proprio perché li devi vendere cioè non è perché per forza devi sempre vendere tutti come in questa sessione di mercato che ho improvvisato di sessioni eccellenti poi alla fine a livello economico ne abbiamo fatte due abbiamo andato via Illich e Bellanova perché poi non è che ho fatto ho fatto il market e ho messo in vendita tutti ho fatto due sessioni eccellenti anche Zapata sinceramente però un giocatore che è una grande opportunità di mercato cioè se una squadra messicana ti offre 13 milioni è una grande opportunità di mercato però queste sono le tre eccessioni diciamo importanti a livello economico però andiamo a prendere tutti i calciatori a parte Batshuayi che sono giovani i calciatori che possono migliorare anche un Daniliuk per dire che prendi in prestito con diritto di scatto molto basso perché in Italia ha fatto male e si è un po' perso però se si rivaluta vuoi che non può valere 10-12 milioni cioè sono tutte sono tutte possibilità anche di plusvalenza ma soprattutto di plusvalenza tecnica in campo di miglioramento di rendimento in campo quello noi stiamo cercando non solamente comprare a 5 e vendere a 20 serve anche quello però bisogna anche trovare la funzionalità tecnica in campo e quindi per me questo reparto d'attacco è completo a tutto a tecnica a forza fisica a future goal a esperienza a capacità di dialogare con i compagni di aprire gli spazi a tutto a colpo di testa a tutto cioè è un reparto offensivo veramente tanto elastico che ovviamente Valori dovrà saper sfruttare ma ribadisco nell'era dei 5 cambi puoi cambiare calciatori offensivi calciatori di fascia puoi cambiare la mezzala puoi cambiare il trequartista puoi cambiare questi calciatori cambiare volto alla squadra mettere giocatori freschi e rendere difficile anche la difesa dell'avversario perché magari prepara la partita su determinati profili e poi tu gli cambi i giocatori e cambiano anche le caratteristiche quindi per me è un bel reparto d'attacco è un bellissimo Torino e andiamo a fare il riepilogo del Toro che come vi dicevo conclude il mercato con zero di budget non abbiamo speso nulla non abbiamo incassato nulla abbiamo alzato un po' il monte in gaggi ma è qualche sforzo bisognerà pur farlo per cercare di fare questo famigerato salto di qualità la formazione titolare nella mia testa è Milinkovic Savic in porta difesa a tre Scurse Bongiorno e Nelson sulla destra abbiamo Zortea sulla sinistra abbiamo Reguillon centrocampo a tre Vlasic Tesman e Ricci centravanti titolari diciamo Orban e Dallinga però abbiamo tante soluzioni abbiamo Danilio che abbiamo andiamo a voi Voda abbiamo Lazzaro abbiamo Linetti abbiamo Tamese abbiamo Ginetis abbiamo Vashoi abbiamo Sanabria poi abbiamo i giovani abbiamo Della Valle abbiamo Orvat Russell abbiamo veramente tante soluzioni e quindi secondo me questo è un Torino che ha una rosa ampia di qualità con un giusto mix di giovani e di esperienza con calciatori con una difesa devastante cioè ragazzi la difesa è veramente forte e ha comunque soluzioni anche poi nel centrocampo perché se Ricci continua la sua crescita Tesman in serie A ha lo stesso rendimento che ha avuto in serie B con lo stesso allenatore e Vlasic trova la continuità è anche un centrocampo importante abbiamo due esterni fortissimi perché Zortia e Reguillon sono fortissimi e un attacco tutto da giostrare da Vanoli ma che ha un potenziale enorme quindi questa squadra ha tutte le carte in regola per potersi giocare un posizionamento in Europa anche nobile non parlo di Champions ma magari di Europa League sì secondo me è una bella squadra è una squadra che poi potrà essere valutata perché ci sono dei prestiti c'è Reguillon che scade il prestito ma è svincolato c'è Daniliuk c'è Orban cioè puoi valutare anche queste situazioni contrattuali in base al risultato che hai avuto quindi anche il rischio che ti porti dietro non sono investimenti ad alto rischio le uniche due operazioni veramente grosse a livello economico sono Nelson e Dallinga però cioè su Nelson secondo me non ci sono rischi perché è un giocatore forte punto e basta Dallinga può essere un pochino più rischioso però è un investimento che secondo me è giusto fare sono i soldi che incassi da Zapata che ha 34 anni è finito anche a livello fisico e vai a prendere un giovane promettente del calcio europeo quindi alla fine secondo me è un'operazione giusta questo è il mio Torino vi invito a scrivere nei commenti cosa ne pensate se vi piace se vi gasa se le mie operazioni vi trovano d'accordo oppure se vedreste diversamente il Toro magari siete della sponda avrei venduto un buongiorno ma avrei tenuto bella nuova Eilic cioè ditemi un pochino tutto quello che vi passa per la testa tanto leggo e rispondo sempre a tutti iscrivetevi al canale se non lo siete condividete il video con tutte le persone tifose del Toro che pensate possano apprezzare questi contenuti e poi scrivetemi nei commenti qual è la prossima squadra che volete trovare sul canale anche se il Lecce ribadisco ha in netto vantaggio perché è stata la più votata insieme al Toro al primo video ma mi sto tenendo il conto di tutti i voti e quindi quelle più votate sono quelle che porto poi le porto tutte è l'ordine che viene definito dai voti noi ci vediamo dunque al prossimo video mi raccomando numerosi nei commenti e nei like un caro saluto a tutti ciao ciao